Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Music Production. Nella scorsa parte abbiamo parlato di preamplificatori, oggi parleremo delle caratteristiche dei preamplificatori. Il preamplificatore grossomodo è fatto di componenti attivi. I componenti attivi all'interno di un preamplificatore sono quelli che effettivamente fanno il lavoro, cioè aggiungono qualcosa, non sono componenti passivi che semplicemente cambiano la natura del segnale senza fare nulla. Questi creano qualcosa e sono di diversi tipi. Sono valvole, transistor e circuiti integrati. Per quanto riguarda le valvole per lungo tempo furono usate semplicemente perché non c'era altro a disposizione e quando arrivarono i primi transistor presero rapidamente piede perché avevano dei vantaggi rispetto alle valvole che vedremo tra poco. E stessa cosa per i circuiti integrati che ancora di più, anzi, offrivano un sistema praticamente onnicomprensivo. Al loro interno hanno una serie di componenti che svolgono quasi tutto il lavoro di preamplificazione ma si sono guadagnati nel tempo una cattiva reputazione ma di questo ne parleremo poi. Abbiamo già parlato di come un preamp funziona tecnicamente. Deve svolgere un lavoro soltanto, prendere un segnale a basso voltaggio e farlo diventare uno a più alto voltaggio. Il basso voltaggio è quello di un segnale microfonico e quello a più alto voltaggio è quello per esempio di un segnale di linea. Un segnale ad alto voltaggio lo rende molto più facilmente utilizzabile e manipolabile nei procedimenti successivi a quelli della preamplificazione. Possiamo dire che lo rende pronto per essere lavorato nel mondo esterno, diciamo così. Abbiamo anche detto come in realtà dal punto di vista fisico non possa esistere un preamp assolutamente al 100% perfetto perché qualche tipo di rumore, qualche tipo di distorsione e qualche tipo di variazione in frequenza, seppur magari virtualmente inudibili, qualcosa creerà, non esiste componente sulla terra che sia del tutto pulito. Ma abbiamo anche visto come i preamp siano arrivati a un livello quasi perfetto. Quindi questo cambiamento negli ultimi tempi è arrivato ad essere molto piccolo volendo però questo cambiamento comunque c'è ed è misurabile ed è misurabile e anche evitabile con un paio di componenti esterni che hanno il ruolo di svolgere un processo chiamato negative feedback che è un processo abbastanza semplice e neanche troppo costoso. Il contro è che questo processo abbasserà il gain quindi servirà un guadagno maggiore. Implementato correttamente il negative feedback porterà dei vantaggi che sono quelli di una distorsione molto ridotta e una risposta in frequenza più lineare. Non ci sono dei controveri e propri nell'implementazione di questo progetto. Casomai un contro potrebbe essere indiretto perché dato che questo processo abbassa il livello del segnale abbastanza sarà poi necessario più gain per farlo arrivare a livello desiderato e nel caso di un preamp con una costruzione diciamo un po' traballante per usare un eufemismo questo indurrà molto rumore quasi quasi vanificando il processo di negative feedback o creando insomma una situazione per cui il preamp non sta svolgendo bene il suo lavoro. Questo in buona parte l'avevamo già detto cioè che il preamp si porta dietro comunque una certa quantità di rumore una certa quantità di distorsione quello che non abbiamo ancora detto è che questi tre tipi di componenti sopracitati per realizzare un preamp sono molto diversi hanno caratteristiche molto diverse tra di loro questo fa sì che per esempio nel caso del preamp a valvole il negative feedback avrà come risultato un segnale molto molto basso e se si molto abbastanza basso sicuramente più basso che in altri preamp e se si tenta di compensare utilizzando più gain la valvola ad alti livelli di gain inizia a distorcere per sua stessa natura quindi è una cosa che va considerata. Dato che ne stavamo parlando direi di partire proprio dai preamp a valvole la valvola come abbiamo detto era molto utilizzata in passato ma ha alcune caratteristiche particolari che la rendono non tanto problematica ma diciamo bisognosa di attenzione perché per sua stessa natura la valvola tenderà a distorcere molto più del transistor o del circuito integrato e questo processo è ineliminabile il negative feedback non riesce a eliminarlo del tutto per darci un segnale assolutamente pulito un preamp valvolare avrà sempre una componente di distorsione al suo interno però questo che cosa porta anche la distorsione della valvola rispetto a tanti altri tipi di distorsione è nota per essere più musicalmente gradevole più si definisce warm un suono di una di una valvola un pochettino più caldo un pochettino più rotondo questa cosa può essere desiderabile in alcuni casi questo è il motivo per cui i preamp a valvole sono ancora ampiamente utilizzati non certo come una volta in cui erano in sostanza l'unica possibilità ma ancora adesso ci sono tanti preamp a valvole che sono molto costosi molto ricercati e molto moderni ancora ne producono tuttora di pezzi di equip veramente molto belli ma hanno un loro suono ed è proprio per questo che vengono ricercati e si registra tramite loro il preamp a transistor dal momento in cui è stato disponibile il transistor stesso ha trovato subito un largo utilizzo perché rispetto alla valvola è in grado di raggiungere alti livelli di gain prima di arrivare a distorcere e il processo del negative feedback su questo tipo di preamp funziona molto bene ed è tecnicamente possibile costruire preamp a transistor estremamente puliti quindi questo è stato davvero un vantaggio da molti punti di vista però sia chiaro non è detto che il preamp a transistor poi non possa distorcere anzi distorce come e anzi molti preamp a transistor del degli anni passati soprattutto di certi marchi famosi sono hanno acquisito la loro fama proprio per il tipo di distorsione che hanno superata una certa soglia aggiungono delle determinate caratteristiche in un suono per la per la loro progettazione per la scelta di certi componenti che è desiderabile anche qui il discorso è simile a quello del preamp per valvole alcune persone ricercano proprio questo e vogliono questo nel loro suono il preamp a circuito integrato combina a differenza degli altri svariati tipi di componenti svariati transistor per esempio al suo interno per ottenere un sistema diciamo a sé stante in grado di ottenere un guadagno molto elevato e di avere molto poco rumore sulla carta sembrerebbe la soluzione migliore ma in realtà preamp di questo tipo hanno una cattiva reputazione e adesso vediamo perché i motivi sono tanti in realtà ma uno dei motivi principali è che i primi circuiti integrati costruiti con questo specifico utilizzo non erano stati pensati per l'audio professionale cioè avevano un'applicazione molto più consumer forse la parola sbagliata però aveva un'applicazione differente rispetto all'audio professionale c'è la registrazione di musica per esempio questo ha fatto sì che avessero una cattiva reputazione perché non erano poi un granché venivano costruiti in maniera abbastanza alla bella e meglio in alcuni casi e tra le varie cose che erano un pochettino trascurate c'era soprattutto il trascurare un parametro che si chiama slew rate lo slew rate è un valore che indica la massima velocità a cui il voltaggio di uscita può cambiare questa cosa veniva un po trascurata vi ho detto all'epoca quando un segnale supera questo limite di slew rate che il preamp aveva creato diciamo così questo limite così basso di slew rate che il preamp aveva creato si si verificava un fenomeno conosciuto come seed slew induced distortion e questo tipo di suono qua è in realtà piuttosto aspro e fastidioso rispetto a tanti altri la distorsione valvolare per esempio è quasi opposta rispetto a questo tipo di distorsione per farvi un esempio il commodore 64 il suono del commodore 64 è un suono imbottito di seed di slew induced distortion per carità alcuni potrebbero volere questo tipo di suono però capite bene che questo è quanto di più lontano dalla fedeltà audio si possa immaginare comunque si si sta parlando di epoche molto diverse al giorno d'oggi è tecnicamente possibile costruire un circuito integrato che sia assolutamente efficiente pulito e che dia degli ottimi risultati quindi in realtà al giorno d'oggi la cattiva reputazione di questo tipo di preamp non è più giustificata e possono essere trovate molte cose degne di nota ora uno dei problemi più comuni nell'utilizzo del preamp è come abbiamo già detto la quantità di rumore ok bisogna ottenere il rapporto suono rumore migliore possibile il massimo suono con il minimo di rumore per ottenere questo è il caso di far sì che l'impedenza di uscita del microfono sia il più possibile si dice matchata cioè allineata compatibile con l'impedenza di input del preamplificatore questo si chiama abbinare le impedenze e cercare di far sì che il rumore sia il meno possibile l'impedenza di output è la capacità di un output di portare corrente elettrica un'impedenza più bassa rappresenta una capacità di portare grande corrente e tra parentesi di anche gestire cavi di grande lunghezza l'impedenza di input invece rappresenta la richiesta di corrente dell'input diciamo così un input ad alta impedenza non richiede poi così tanta corrente ma una bassa impedenza invece ne richiede molta una bassa impedenza tende a essere meno rumorosa si può dire che aumentando il livello degli elettroni che girano le variazioni di singoli elettroni sono un pochettino meno influenti meno percepibili per un input ad alta impedenza questo risulta essere lo scenario migliore perché richiederà meno corrente all'output a lui connesso una caratteristica importante da considerare è che l'impedenza di un output tende a variare a seconda della frequenza se l'input ha un'alta impedenza poco male perché richiede poca corrente anche se ci sono delle variazioni il risultato sarà comunque piuttosto fedele ma se invece l'input ha una bassa impedenza richiede molta corrente e sulle singole frequenze la corrente potrebbe essere davvero tanto diversa e il segnale che si riceverà avrà delle forti variazioni in risposta in frequenza l'impedenza di un microfono è più o meno 200 ohm questo è lo standard a cui sono arrivati un po i produttori di microfoni nel passare del tempo logica vorrebbe che anche un input debba essere messo a 200 ohm per maciare l'impedenza e ottenere il massimo trasferimento di potenza e avere il segnale a un livello più alto possibile però avendo un output a bassa impedenza ovviamente le risposte in frequenze saranno tanto diverse ne abbiamo detto prima quindi potrebbe essere sensato avere un input invece per esempio a 2000 ohm che richiederà molta meno corrente e quindi la corrente sulle varie frequenze l'impedenza sulle varie frequenze pur essendo variabile non si tradurrà in un segnale con così tante variazioni in risposta in frequenza d'altro canto così facendo il segnale sarà più basso e quindi il gain da utilizzare sarà di più e in un preamp costruito così così questo indurrà più rumore ma anche in uno costruito bene insomma questo è un sistema in cui tutte le componenti vanno considerate alcuni microfoni hanno anche un'impedenza diversa da 200 ohm in alcuni casi molto diversa è il caso dei microfoni low cost quelli molto economici però quelli non hanno un'utilizzo nell'audio professionale in realtà le ragioni per non avere un microfono con un'impedenza a 200 ohm non sono poi così tante sono poche quindi questo fa sì che sia davvero più o meno lo standard al giorno d'oggi settare bene l'impedenza dell'input di un preamp non è cosa da niente i transistor tendono ad avere nella maggior parte di casi almeno un'alta impedenza e le valvole invece una altissima impedenza serve un componente aggiuntivo a questo punto per arrivare ai 2000 ohm che desideriamo questo componente è il trasformatore il trasformatore consiste in buona sostanza in due due bobbine a volte una intorno all'altra oppure a volte intorno a un core di ferro il rapporto tra il numero di avvolgimenti delle bobbine di filo una rispetto all'altra darà la razio della variazione di impedenza il trasformatore aumenta anche il voltaggio del segnale prima che arrivi al primo componente attivo ma questo è più un effetto collaterale il trasformatore ha anche altri due effetti positivi il primo è che è bilanciato il concetto di segnale bilanciato detto in due parole è sia l'output che l'input del segnale girano di fase uno delle due uscite sia l'output del microfono che l'input del del preamp hanno tecnicamente due uscite lo vedete in un cavo xlr per esempio un canon come è comunemente chiamato uno di questi due poli diciamo così viene girato di fase nel nel connettore il che vuol dire che arrivando dall'altra parte il segnale sarà sommato ma tutte le interferenze che sono intercorse all'interno del cavo lungo il corso del cavo quando vengono girati di fase un'altra volta alla fine del percorso le interferenze tutto quello che non faceva parte del segnale originale viene cancellato di fase perché viene invertito per carità succedono anche altre cose ho fatto una spiegazione un po grossolana ma più o meno il concetto è questo l'altro fattore che il trasformatore è staccato da terra evitiamo tutte le spiegazioni di elettronica anche perché non sono convinti di sapervele dare bene e sicuramente chi è più bravo di me in questo però detta proprio in due parole è è in grado di evitare un sacco di rogne di problemi che possono verificarsi all'interno della linea elettrica della vostra casa del vostro studio il vostro appartamento insomma del luogo in cui vi trovate questo ruolo può essere svolto anche da altri componenti ma il trasformatore è quello originale e gli altri sono solo emulazioni di questo tipo di cose il trasformatore è comunque il modo migliore detta così il trasformatore sembrerebbe non avere contro in realtà qualcosa c'è di contro del trasformatore quello principale paradossalmente potrebbe essere definito il suo costo perché i componenti per realizzarlo rispetto ad altri tipi di componentistica non sono poi così economici ed è una cosa da considerare quando si realizza qualcosa ovviamente l'altro l'altro contro è che non tutti hanno una risposta in frequenza proprio lineare e alcuni trasformatori con il core in ferro oltretutto inducono distorsione ancora una volta questa è una cosa che però in alcuni casi potrebbe essere desiderabile a seconda dei gusti comunque sia il trasformatore sia per il costo sia per la risposta in frequenza un po così in alcuni casi e la distorsione indotta in alcuni modelli insomma il trasformatore è stato sempre più rimpiazzato nell'audio quando è quando c'era la possibilità di rimpiazzarlo con qualcos'altro però il preamplificatore è uno di quelle cose in cui il trasformatore ancora ampiamente utilizzato perché le caratteristiche del trasformatore lo rendono praticamente perfetto proprio per questa funzione critica in sintesi possiamo dire che quindi sì anche dal punto di vista costruttivo anche dal punto di vista delle caratteristiche al giorno d'oggi come abbiamo già detto è possibile costruire un preamplificatore che sia praticamente perfetto però dato che la percezione della bellezza sonora la percezione della musicalità la percezione di un suono gradevole è soggettiva e non oggettiva a volte può essere perfino desiderabile avere un preamp meno perfetto ma che aggiunga qualcosa al suono che abbia la sua personalità diciamo così molti la chiamano così il suo colore abbia un certo tipo di variazione al suono che però è una cosa che noi troviamo gradevole che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo che ci siamo preposti quindi in buona sostanza ragazzi dipende da voi se queste cose vi piacciono se queste cose che trovate in preamp un po meno perfetti sono gradevole al vostro orecchio allora utilizzatele perché va anche benissimo scegliere un preamp non per la sua realizzazione tecnica diciamo così ma per come suona e detto questo ragazzi direi di chiudere qua questa puntata abbiamo detto tante cose abbiamo parlato di tante cosine interessanti e abbiamo continuato un po il filone dei preamp nella prossima puntata vedremo l'utilizzo dei preamp in contesti molto specifici e nell'utilizzo delle caratteristiche del preamp che troviamo e nel mentre ragazzi qui trovate la dispensina per oggi scaricatela liberamente e l'unica cosa che vi chiedo in cambio in questo link è l'iscrizione al canale una visitina sulla mia pagina facebook ma per il resto è gratuito da scaricare per consultarlo quando volete quando ne sentite il bisogno per avere un riferimento scritto quindi per oggi è tutto ragazzi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e magari se volete lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se questo corso finora vi sta piacendo noi ragazzi ci diamo appuntamento alla prossima puntata ciao